Autostrada Catania-Siracusa è chiusa per due giorni in direzione della città etnea. I percorsi alternativi. Ancora disagi per gli automobilisti che nei prossimi giorni dovranno percorrere l'autostrada Catania-Siracusa. Chi dovrà viaggiare in direzione della città etnea mercoledì 15 e giovedì 16 marzo troverà la strada chiusa. L'ANAS ha fatto sapere che l'autostrada verrà chiusa per effettuare le periodiche attività di formazione all'interno delle gallerie. La Siracusa-Catania rimarrà pertanto interdetta nella sola direzione Catania nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le 17.15. Durante gli orari di chiusura tutti i veicoli in transito da Siracusa-Catania potranno percorrere l'itinerario alternativo costituito dalla strada statale 114 orientale Sicola. Ricordiamo che l'autostrada è stata sottoposta a chiusura la settimana scorsa, giovedì 9 e venerdì 10 marzo.